Buongiorno, le chiuse della rotta sabadina si trovano in comune di Sant'Urbano in provincia di Padova, a circa 500 metri dal fiume Adige. È un'importante struttura idraulica del XVI secolo, che serviva per mantenere a regime le acque del fiume Adige. Fu realizzata tra i possedimenti dei veneziani Giorgi, che avevano trasformato una torre di guardia estense in villa, e quella dei Giusto o Zusto. Il canale della Rotella, in cui si trovava la chiusa, permetteva il traffico fluviale di merci e persone dall'Adige verso i Colli Ugani e Padova e viceversa. La struttura di regolamentazione delle acque è in laterizio, alla forma di un ponte con sottostanti tre fornici ed alcuni particolari marmo bianco. La chiusa era posta all'inizio del canale della Rotella, ora abbandonato, dopo l'innalzamento degli argini dell'Adige alla fine del XIX secolo. A rotta sabbadina, naturalmente prima della costruzione dell'opera, nel 1513 i veneziani ruppero gli argini del fiume Adige per allagare la pianura e quindi fermare l'avanzata dei nemici qualizzati nella Lega di Cambrai. Qualcuno attribuisce l'idea della rotta all'ingegnere Cristoforo Sabbadino, perciò in seguito si sarebbe parlato di rotta sabbadina. Cristoforo Sabbadino nel 1513 aveva 26 anni e appena iniziato il cursus honorum nell'amministrazione della Repubblica Veneta. Sarebbe più probabile attribuire l'iniziativa della rotta per bloccare i nemici al padre di Cristoforo, Paolo Sabbadino, a sua volta ingegnere, già soprastante alla Polizia della Laguna. Altri invece, Pierluigi Zambon in storia di Villa Rezzonico, individua il termine rotta sabbadina come derivante dall'attore medievale Rocca Sabbadina, così chiamata perché edificata dal conte Colonio dei Sabbadini, che aveva acquistato dei terreni e torre dagli estensi nel XIV secolo. Colonio apparteneva alla nobile famiglia dei Sabbadini di Bologna, diventata poi padovana con il cognome Zabarella.